Ciao amici di Vaccino Web! Oggi io e Barney siamo venuti a fare un giretto al lago, visto che adesso si può. Siamo tutti bene, speriamo che questa situazione si vada a concludere perché ormai siamo stanchi. Abbiamo tante cose da fare, siamo stati però bloccati, speriamo di riprendere al più presto, vero Barney? Ciao a tutti da un lago di Varsi da 2, ciao! Grazie a tutti! Anche i miei padroni li girano adesso faccio un bel bagnetto, faccio un bel bagnetto, adesso un buon amico li gira, ecco qua. Ah come si sta bene nella gira, mmmm, una chiesa propria, faccio un bel bagnetto, eh? Eh si eh! E adesso mi faccio un bel giretto intorno al laghetto, dopo il bagnetto, un bel giretto, ma che bello, ma che bello, ma che bello almeno. Oggi è una super giornata bella, è vera? Dai fio, che tra un po' asturna la normalità, possiamo girare tutti, tutti insieme. Ciao, ciao, buona giornata a tutti, dal vostro Barney, ciao!